Il caballero misterioso cerca ancora Carmen Sita. Il caballero misterioso cerca ancora Carmen Sita. Armando Testa, genio compreso nato a Torino il 23 marzo del 1917 e morto a Torino il 20 marzo del 1992. L'Armando Testa, guidata da Marco Testa, si conferma per il nono anno consecutivo l'Agenzia di pubblicità leader in Italia con un fatturato di circa 90 miliardi di euro e 422 persone. Biografia. Armando Testa è stato un noto disegnatore, cartonista e autore grafico e di testi per il settore della pubblicità. Ha fatto del minimalismo nel segno grafico e dell'immediatezza delle tagline le sue armi vincenti. Alla fine del video racconterò una storia della sua vita che la dice lunga sulla grandezza del personaggio. Prima di inoltrarci nel mondo artistico di questo genio, un piccolo spot sul mio lavoro che con un dito puoi far crescere iscrivendoti al mio canale e mettendo un mi piace e commentando quando sei invogliato a farlo. A te costa poco tempo ma ripaghi il gran tempo che spendo io per fare questi lavori di qualità. Grazie sulla fiducia. E ora torniamo al grande genio compreso Armando Testa. Armando Testa è stato un noto disegnatore, cartonista e autore grafico e di testi per il settore della pubblicità. Ha fatto del minimalismo nel segno grafico e dell'immediatezza delle tagline le sue armi vincenti. L'agenzia pubblicitaria da lui creata, il gruppo Armando Testa, è ancora oggi fra le prime per fatturato e attività operanti in Italia. E lo ripeto, nel 2024 il gruppo fondato dal genio compreso ha fatturato 90 miliardi. Testa è stato avviato alla carriera artistica dal pittore astrattista Ezio Derrico, conosciuto mentre frequentava la scuola tipografica Vigliardi Paravia. In particolare fu lo stesso Derrico che lo ha fatto avvicinare all'arte contemporanea. Nel 1927 vince il primo concorso per manifesti con il cartellone per la ICI pubblicato su Graficus. La sua attività professionale inizia tuttavia solo nel 1946, quando fonda a Torino il primo studio grafico, trasformato nel 1956 in agenzia pubblicitaria con Francesco e Lidia De Barberis. Negli anni 50, parallelamente all'attività grafica, si occupa della realizzazione di spot pubblicitari per la televisione. Nel 60 vince il concorso per il manifesto delle Olimpiadi. Nel 68 riceve da Giulio Carlo Argan la medaglia d'oro del Ministero della Pubblica Istruzione per il suo contributo alle arti visive. Nel 70 vince la Biennale del Manifesto di Varsavia e nell'89 viene nominato Honor Laureate dall'Università di Fort Collins in Colorado. La sua a volte frenetica attività non trascura neppure l'aspetto sociale. Portato avanti con campagne pubblicitarie di Amnesty International e della Croce Rossa Internazionale o quella della Società di San Vincenzo de Paoli. Fra le molteplici figure da lui ideate nel corso di una lunghissima carriera, degni di particolare menzione sono i famosi Caballero Misterioso, Pistolero Argentino e Carmencita, sua innamorata, protagonisti di un famoso carosello televisivo per una marca di caffè della torinese Lavazza in voga negli anni 70. Altre pubblicità alle quali Testa ha legato il suo nome, spesso di aziende della sua città, Torino, sono state quelle per il digestivo Antonetto, la birra Peroni, i televisori Filco, i cappelli Borsalino, l'abbigliamento Facis, l'olio Sasso, il punte Mess, la Pirelli, la carne in scatola Simmental, Saigua, Citterio, San Bitter, Esso, Galbani, i liquori della Martini and Rossi. Torino, città natale di Testa, ha dedicato all'artista nel 2001, al Castello di Rivoli, una mostra commemorativa dal titolo Less is More, in onore al suo minimalismo. Alla sessantaseiesima edizione della mostra del cinema di Venezia, nel settembre 2009, viene presentato fuori concorso un documentario biografico di 50 minuti dal titolo Armando Testa, povero ma moderno, per la regia di Pappi Corsicato. Il centro studio e archivio della comunicazione di Parma, conserva un fondo dedicato ad Armando Testa, contenente schizzi, bozzetti, stampe tipografiche e litografiche, fotografie, stampati, locandine, dépliants, manifesti, serigrafie. Il materiale è stato donato dallo stesso Testa nel 1986 ed è oggi suddiviso in progetti relativi a campagne pubblicitarie e realizzazioni editoriali. Nel 2015 il gruppo ha donato a Torino l'opera Punt e Mess. La città, in segno di omaggio al pubblicitario torinese, ha quindi collocato la scultura al centro di piazza 18 dicembre. Uno dei temi più frequenti della sua carriera è il cibo, famose ad esempio le collaborazioni con aziende come Carpano, Lavazza, Simmental, Peroni, Perugina e Sasso per cui realizza manifesti, tra cui i famosi Punt e Mess, e il barattolo di Simmental che viene tagliato a metà, poi spot per il carosello come quelli per il caffè paulista di Lavazza con gli indimenticabili Carmencita e Caballero o lo spot per l'olio Sasso. Armando Testa, intorno alla metà degli anni 70, inizia a sperimentare con la tecnica del photocolor e dà inizio a una ricerca personale per cui l'artista decide di non pubblicizzare più un prodotto ma di creare una serie di cartoline d'auguri, innovative rispetto ai biglietti tradizionali, perché in esse il soggetto rappresentato, il cibo, viene scomposto, analizzato e immerso attraverso il fotomontaggio, in contesti anomali così da creare situazioni paradossali. La poltrona, vero cult, tra i tanti cult creati dal maestro Testa. La più conosciuta è La Poltrona, opera realizzata nel 1986 e pubblicizzata su diverse riviste americane, tra cui Life. Si tratta di una poltrona ricoperta da fette di prosciutto crudo, di cui l'artista racconta «Quando ho realizzato la poltrona di prosciutto ero veramente felice». Non solo perché era un'idea realmente originale, ma anche perché suntuosa. L'idea stessa di avvolgermi in doppio petto nel prosciutto era proprio fisicamente nuova. Invito al Parti Risalgono invece al 1980 le opere Invito al Parti, tavolo con scarpine. La prima rappresenta della mortadella piegata a formare una busta per lettere. La seconda raffigura un tavolo coperto da una tovaglia di mortadella accanto a un paio di scarpe con il tacco, riguardo alle quali Testa afferma Quel grasso unto di mortadella che mi aggredisce è una realtà nuova che mi piace. Penso che senso, che spessore avrebbe se gli posassi sopra le mani. Sempre del 1980 è anche televisione, raffigurante un cubetto di formaggio appoggiato su una fetta di prosciutto che diventa un televisore a tubo catodico. La cartolina Gli Amanti o Due Olive Lussuriose, realizzata nel 1985, rappresenta due olive avvolte in una coperta di spaghetti comodamente appoggiate su due ravioli che fanno da cuscini, diventando in questo modo due amanti. Nel 1989 Armando Testa realizza invece Saluti da Capri, in cui due pezzi di parmigiano appoggiati su una superficie blu diventano i faraglioni dell'isola di Capri. Risale al 1991 infine Espremiamoci di più, titolo che attraverso un gioco di parole anticipa il soggetto dell'opera, due limoni tagliati in modo da simulare delle bocche che prendono così vita e sembrano dialogare tra loro, suscitando l'attenzione dell'osservatore. Lo stile ironico e metamorfico di Testa, utilizzato nella grande maggioranza dei suoi lavori pubblicitari, non solo legati al cibo, si evolve e si estremizza con le sperimentazioni delle cartoline. La tecnica del fotomontaggio porta l'artista a sbizzarrirsi ancora di più in ciò che faceva già. Se per l'elefante della Pirelli, la cui faccia prendeva la forma e texture di un copertone, era necessario un grande lavoro di illustrazione. Con delle foche fatte di melanzane era possibile creare questa immagine semplicemente posizionando nel modo giusto le melanzane e fotografandole dall'angolazione corretta, ottenendo così un'immagine con un significato completamente diverso. L'agenzia Testa oggi e le loro campagne nella food industry? Questi esperimenti sono stati analizzati e presi come modello per delle pubblicità moderne dell'agenzia Testa. Diverse campagne dell'Esselunga presentano giochi di parole e richiami alla cultura pop. Basti pensare alla pubblicità per il music store dell'Esselunga, dove un triciclo è fatto con diversi tipi di pasta. Anche per San Pellegrino l'agenzia ha creato delle pubblicità, ma usando un altro stile, come quella dell'aranciata e del bitter con entrambe la stella iconica del marchio. L'agenzia Testa è una delle più importanti agenzie di comunicazione in Italia e molte delle aziende che vi si affidarono negli anni 50 tutt'oggi hanno campagne pubblicitarie create dallo studio di Armando. Lavazza, Citerio e Perugina sono le fedeli da tempo, ma si sono aggiunti anche nuovi marchi come Chiquita, Esselunga, Birra Moretti, Riso Gallo e Pan di Stelle, che hanno scelto la visione moderna dello studio. Visione che Armando Testa stesso ha avuto circa 40 anni prima del tempo dei social network, in cui l'ironia e il fotomontaggio sono la mossa vincente. E ora la storia inedita su Armando Testa raccontata da Gianfranco Carpeoro, suo amico e avvocato di vecchia data. Carpeoro e Testa, di mattina, mentre andavano a piedi verso la sede dell'agenzia pubblicitaria, vedono un cieco che col cappello a terra chiedeva la carità usando un cartello con scritto «Cieco dalla nascita, ho famiglia e sono disoccupato». Testa con generosità mette la mano in tasca e mette molti soldi nel cappello del cieco, che lo ringrazia calorosamente. Testa poi chiede al cieco se può cambiargli la scritta e il cieco acconsente. Testa riscrive il cartello e lo mette vicino al cappello e con Carpeoro va in ufficio. Sulle cinque del pomeriggio ripassano davanti al cieco che ha il cappello pieno di soldi. Il cieco li riconosce e implorando chiede «Cosa ha scritto che tutti mi hanno dato qualcosa e fatto i complimenti per la frase?». Ho scritto «Oggi è il primo giorno di primavera e io non posso vederla». Ecco quanto è grande testa e come usava la comunicazione. E ora se anche tu vuoi donarmi un po' della soddisfazione che ha avuto il cieco, iscriviti al mio canale e commenta perché oltre che a favorirmi con l'algoritmo puoi darmi uno spunto per fare una cosa e anche un bel mi piace, lo gradisco, perché ho fatto questo video veramente con cura. Ho omaggiato un grande artista che mi ha fatto compagnia da bambino.